Pane al pane, pane al pane, pane al pane Volevo dare il benvenuto e così l'ascolta anche lei Grazie, grazie A Paola Macchi, Movimento 5 Stelle Allora, le devo chiedere di essere sintetico e andare al punto però perché ho anche il collegamento col GR Sì, sì, sì Cosa ci vuole dire? Allora, il contributo di solidarietà è una cosa che abbiamo sentito tutti è stato bocciato prima e poi approvato e poi ribocciato, non lo so bene per quelli che percepiscono pensioni di 90-100 mila euro al mese robe del genere, insomma, no? Lo sappiamo tutti, giusto? Ci dica cosa vuol dire Vuole dire questo, che non è vero Non è vero, perché chi percepisce più di 2.500 euro l'orde, attenzione, al mese dopo 44 anni di lavoro metalmeccanico Le vengono presi il contributo di solidarietà Questo ha un contributo di solidarietà ma per 6 anni, attenzione C'è una lettera che dice, che mi è arrivata e dice che dal gennaio 2012 a tutto il 2017 io dovrò pagare il contributo di solidarietà dell'1% Quindi io sto pagando Perché ha superato una soglia e lei ci sta dicendo che è una soglia ridicola E' come l'Imu, è come l'Imu Punto e basta Perché me l'hanno tolta l'Imu e adesso me la rimettono in un'altra forma Queste sono cose che proprio non fanno avere dei buoni rapporti tra cittadini Lei la lettera l'ha ricevuta dall'Ims? Come no? C'è una lettera scritta dall'Ims Il suo netto è perché così tanto per dare la dimensione ai cittadini Di netto quanto prende al mese di pensione? Ma guardi, io e altri Sì, sì, no, ma per capire Giuseppe Se no non la capiamo Le dico subito Con 2005 nell'ordine 2006 2006 Sopra 5 volte il minimo 5 il minimo è 480 mi pare Quindi 2500 euro l'ordine sono circa 1600 euro netti Giusto? Esatto Quindi lei è un ricco è un ricco che può fare Lei si ottiglia più di 1700 1800, 1900 Attenzione però il discorso è questo che io non sto piangendo perché so che c'è gente che piange di più No, no, però C'è gente che piange di più Ma io piango dalla rabbia più che altro di vedere che dopo 44 anni di lavoro con 52 settimane Sono soldi suoi quelli lì In questi livelli di cifra Sono pagati questi soldi Punto e basta Per cui si sono pagati perché me li tirano indietro per 7 anni retroattivamente perché la lettera di dicembre del 2012 diceva dal gennaio 2012 lei eccetera eccetera quindi mi hanno recuperato addirittura Addirittura Gli 11 mesi prima e adesso li sto pagando sono al terzo anno che pago il contributo di solidarietà dell'1% perché ho lavorato 44 anni Io dico a questo punto ragazzi proprio non c'è più e io volevo solo sapere se c'era qualcuno che si pigliasse la briga o Lega o PD o PL non mi interessa più come si chiami neanche se uno dell'epoca del 42 diciamo che mi sta sul cavolo però insomma qualunque persona che voglia portare avanti un discorso perché le dirò di più e questa è la chicca non lo sa nessuno bravo ha ragione ha ragione perché io ho telefonato a dei giornali anche autorevoli non le dico i nomi ma lo sono e non sa nessuno glielo ho dovuto dire io allora mi hanno detto ah si già ha ragione perché è una cosa fantastica questa e chissà quanti nella stessa sua condizione senza avere appunto questi stipendi senza avere pensioni da 13 mila euro al mese insomma grazie Giuseppe io la ringrazio per questa puntualizzazione e commenteremo questo a rientro ora devo dare la linea purtroppo al nostro GR quindi la voce di Paola Farina grazie anche Paola 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 Macchi per averci raggiunto spiegheremo anche perché è arrivata in ritardo perché spiegheremo cosa stava succedendo grazie prego Paola sì grazie Laura dunque lo avete detto lo abbiamo anche sentito le parole del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama gli Stati Uniti parteciperanno all'Expo 2015 di Milano lo ha annunciato appunto il Presidente Obama alla conferenza stampa con il Premier Matteo Renzi questo pomeriggio a Roma sono ansioso di tornare in Italia per l'Expo l'esposizione di Milano farà un lavoro straordinario come può fare soltanto l'Italia ha detto Obama e il Premier Renzi ha aggiunto sarà molto importante l'appuntamento dell'Expo 2015 a Milano un evento legato alle tradizioni italiane e la possibilità di farle conoscere a tutto il mondo soddisfatto anche il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia le parole del Presidente Obama su Milano mi rendono orgoglioso e non posso che ringraziarlo mi auguro che possa venire a Milano l'anno prossimo per l'Expo per la nostra città sarebbe un'occasione straordinaria una cinquantina di persone tra attivisti del Centro Sociale Il Cantiere e altre sigle di movimenti per il diritto alla casa hanno fatto irruzione questo pomeriggio all'interno del cortile della sede di infrastrutture Lombarde a Milano la società controllata dalla regione Lombardia coinvolta nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex direttore generale Antonio Rognoni il gruppo ha esposto striscioni nell'atrio dello stabile in via Pola e dopo circa mezz'ora si è diretto verso il palazzo della regione dove alle 17 era previsto un presidio contro il piano case per gli investimenti delle risorse pubbliche sul tema dell'arreddito sociale Un operaio rimasto gravemente ustionato a causa di un incidente sul lavoro la scorsa notte in una fonderia a Gallarate in provincia di Varese l'uomo 30 anni originario della Turchia ha riportato ustioni di terzo grado è stato portato all'ospedale di Gallarate e poi in seguito trasferito al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano sul posto in via Danimarca sono intervenuti i vigili del fuoco il personale dell'AS e la polizia per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente la guardia di finanza ha scoperto e denunciato una falsa invalida che da 25 anni percepiva l'assegno mensile di invalidità come cieca assoluta le indagini hanno accertato la finta invalidità e hanno posto sotto sequestro preventivo le somme indebitamente percepite per un totale di 124 mila euro la donna 71 anni è stata filmata mentre usciva di casa in completa autonomia prendeva i mezzi pubblici con disinvoltura andava a mercato a fare la spesa addirittura andava anche dal suo sarto di fiducia e con questo è tutto le notizie le potete leggere anche dal nostro sito Radio Lombardia della nostra pagina facebook e dal nostro profilo di twitter Laura ti restituisco la linea grazie grazie Paola e dicevamo Paola Macchi il Movimento 5 Stelle sempre la regione Lombardia era in commissione per un'importante votazione si parlava di carceri e in questi giorni si diceva proprio che i tempi stanno diventando corti anche rispetto all'Unione Europea e alle sanzioni che rischiamo poi per 5 anni rischiamo che veramente ne vengano chieste molte da molti carcerati perché non vengono risputate quelle che sono le direttive europee per il rispetto dei diritti umani per cui non ci sono degli spazi minimi per ogni carcerato voglio dire che sono veramente minimi 3-4 metri quadri perché in alcune celle non so a San Vittore per esempio ci sono celle in cui ci sono 6 carcerati non riescono nemmeno a stare in piedi tutti insieme voi stavate lavorando come regione Lombardia su che cosa? noi come commissione speciale sulla situazione delle carceri è stata proposta dal nostro presidente una risoluzione perché si cominciasse perché noi non abbiamo competenze dirette per esempio sulle strutture carcerarie però vorremmo con questa risoluzione pungolare stiamo ancora discutendo perché si cominci a mettere mano a delle situazioni che sono particolarmente difficili che sono quelle del carcere di Varese che è un carcere di fine ottocento quindi in condizioni una struttura fatiscente e di conseguenza le celle sono ancora celle antiche e poi su delle altre carceri a Brescia dove ci sono delle possibilità già di intervenire da parte quindi ci potrebbero essere delle soluzioni già attuabili chiaramente la cosa che ho fatto presente al nostro presidente lavoriamo comunque nella commissione carceri si lavora veramente è un argomento trasversale quindi cerchiamo tutti di fare diciamo che non ci sono problemi di maggioranza pervenzione ma c'è la volontà di risolvere problemi che sono poi oggettivamente non facili quindi la proposta che ho portato ma comunque che è stata condivisa da tutti è quella di proporre anche che venga presa al più presto una soluzione che venga adottata una soluzione per il carcere di San Vittore che è un altro carcere dove ci sono due bracci sono chiusi e nonostante sia già stato deliberato a Roma di ristrutturarne uno comunque questa cosa non viene fatta anche lì ci sono situazioni veramente terribili ok io avevo anticipato dovevamo dare il giustificare anche perché non volevo scusate no no il contrario la ringraziamo di esserci comunque arrivata allora Giuseppe il discorso di Giuseppe voi conoscevate questa situazione nel discorso che faceva Giuseppe su questa letta dell'Inps retrattiva per sei anni sì la conoscevo perché vi è stata fatta presente io no Giuseppe la ringrazio io non avevo conoscenza sì da una mia parente concettualmente fa arrabbiare non so cosa sarà un per cento 16 euro non è quello ma è il fatto che lui dice ideologicamente non è giusto insomma questo era certo tenendo conto del fatto che ci sono veramente delle pensioni d'oro tenendo conto anche del fatto mi riallaccio a una questione che abbiamo portato quella sui vitalizi e quindi teniamo conto del fatto così Giuseppe si arrabbia ancora un po' che per esempio c'è chi prende quanto ha versato come lui ma non è una pensione i vitalizi sono aggiuntivi alla pensione quindi quando per esempio un consigliere regionale ha fatto pochi anni e ha versato quindi pochissimi contributi con la vecchia adesso noi non l'abbiamo più questo non è più per voi giusto Valera adesso non è stata no adesso è stata abolita da questa legislatura però i consiglieri regionali precedenti ne avevano diritto e non era proporzionale ai contributi versati ma era una cifra per cui ci si trova abbiamo seguito la vicenda anche del vostro spray ancora di più perché veramente questa era la voce Giuseppe di Paola Macchi Movimento 5 Stelle Regione Lombardia che ovviamente su non credo gallerà abbia poteri la regione su queste lettere dell'inno in questione nazionale quindi Giuseppe è l'approccio che è sbagliato complessivamente le arriva la lettera a casa ormai da troppo tempo e quindi era una delle prime riflessioni che facevo rispetto a questa DDL del Rio il tema è tagliare le spese se noi immaginiamo soltanto invece come recuperare risorse per continuare a foraggiare questa macchina soprattutto statale che spreca ed è un idrovaro un numero di dipendenti eccessivo rivoli di sprechi esasperanti ed esasperanti non andiamo da nessuna parte perché poi la patrimoniale andiamo a colpire le pensioni d'oro poi alla fine si finisce lì si finisce a colpire Giuseppe non si finisce mai a colpire le pensioni d'oro si finiscono a colpire facciamo la patrimoniale un milione di euro in patrimonio siccome siamo un paese di proprietari di casa molte volte basta che un'eredita dalla madre e dal padre due casette nel paese nativo che rischi con una casa a Milano di fare di avere la patrimoniale quando noi continuiamo a dire il problema non è come recuperare i soldi è come evitare di spendere è come ridurre il costo dello Stato allora noi oggi abbiamo fatto una riforma che non taglia le province che toglie poco quando invece si poteva quantomeno ridurne il numero bisogna far ridurre il numero delle regioni ridurre il numero delle province ed evidentemente ridurre il numero dei consiglieri ridurre il numero dei dipendenti che se ne occupano questa è la riforma vera io mi aspettavo dal presidente del consiglio che aveva voglia o almeno ha lanciato l'idea di grandi riforme che iniziasse da questo punto di vista prendere il toro per le corne e dire è il momento dei sacrifici non è il momento dei fuochi d'artificio è il momento di fare dei tagli veri perché questo è un paese non possiamo fare tanti proclami sulle pensioni d'oro di Giuliano Amato perché ormai lui è il simbolo e poi alla fine finiamo da Giuseppe che prende 1600 euro al mese avendo fatto il quadro per 44 anni certo allora abbiamo a proposito di questo discorso il presidente della provincia di Sondrio per cui volevo sentire Massimo Sertori buonasera salutiamo pronto buonasera ha sentito l'intervento di Galleria era già in diretta è riuscito a sentire ho sentito un pezzo e lo saluto esatto viceversa salutiamo anche lui la saluta allora qual è la sua la sua considerazione la sua riflessione su questo su questo passaggio ieri al Senato dell'abolizione così sinteticamente come ormai viene detto da tutti delle province anche se poi non è solo quello mi pare evidente che il presidente del Consiglio e il suo braccio verso del Rio hanno fatto una scelta quella di dar seguito a uno strutturale e a discapito dei cittadini perché questo provvedimento aumenterà i costi non lo dico io ma lo dice la Corte dei Conti e la Commissione al Senato del Bilancio aumenterà le inefficienze si metterà nel caos istituzionale i territori creando dei problemi delle criticità anche sulle regioni perché evidentemente le province come quelle lombarde che hanno una esatto come la sua per esempio che ha una funzione particolare mi diceva prima Gallera non dico nessuna ma neanche tutti perché ci sono delle realtà e delle situazioni Milano lo è sicuramente fino o meno finché non ci sarà la città metropolitana ma anche la provincia di Sondrio ha una sua particolare realtà beh guardi io ho sempre detto questo DDL del Rio è una medicina sbagliata che ha un effetto collaterale che si chiama Sondrio la nostra è una provincia interamente montana e ai confini dell'impero e togliere l'unico ente che è in grado di rappresentare gli interessi di un territorio così specifico come il nostro che ricordo confina da una parte con le province autonome di Trento e Bolzano dall'altra parte con la Svizzera è una follia acclarata tant'è vero che il disegno del Reggio del Rio riconosce che esistono le province interamente montane ovvero Sondrio e Belluno peccato che poi le trasforma in una specie di consorso dei comuni comunità montane chiamatelo come volete che è pressoché totalmente ingestibile pensate che con questo disegno di legge del Rio ad esempio per far capire ai radioscoltatori la provincia di Bergamo che ha 243 comuni dovrà decidere prendere le sue scelte in base a un'assemblea di 243 sindaci e a un consiglio che è la risultanza di questa assemblea chiunque ha un minimo di alla faccia della semplificazione no chiunque ha un minimo di conoscenza amministrativa sa benissimo che sono riusciti a generare un mostro totalmente assolutamente ingestibile certo però noi siamo in Lombardia e la Lombardia negli anni ha delegato tantissimo ai territori aumentando le efficienze per cui per la Lombardia sarà una tragedia ancora più grossa certo questa è la voce della Presidente della Provincia di Sondrio che cosa si potrà fare credo ormai poco se il percorso sta continuando ad andare in questa direzione dal suo punto di vista ma guardi siccome continuano a proclamare che vogliono fare le riforme costituzionali premetto che io sono tra quelli che sostiene che il sistema istituzionale va riorganizzato io sono convinto che bisogna diminuire le regioni bisogna diminuire le province bisogna efficientare lo Stato voglio ricordare che non è che togliendo o massacrando le autonomie locali che è quello che stanno facendo oramai da tre anni a questa parte andiamo a aumentare l'efficienza e riduciamo i costi esattamente è vero il contrario qui addirittura ci stanno rappresentando che la rappresentazione dell'efficienza è lo Stato centrale non è proprio così e bisogna soprattutto smetterla di considerare le autonomie locali tutte uguali tutte uguali sono comuni territori diversi comuni che non lo sono provincia uguale regione uguale quindi bisogna cominciare invece a metterla seriamente uscire dalla logica degli spot elettorali perché soprattutto quando si fanno le riforme istituzionali in un contesto come quello di oggi di straordinaria crisi e criticità non è un giochino e poi restano grazie e poi restano infatti certo grazie presidente buon lavoro buon lavoro cosa macchia abbiamo sentito Gallera che mi ha introdotto questo collegamento che cosa pensate voi del decreto del Rio di questa di quello che ancora una volta pare passare in maniera errata come comunicazione un risparmio finalmente io ieri ero fuori ieri sera sentivo la gente anche ragazzi giovani persone giovani dicono finalmente si comincia a tagliare un po' di risparmio perché uno lo vede come se non sa come passaggio anche di beneficio per la grave crisi in cui ci troviamo e lì è imbarazzante capire se poi davvero questo risparmio non c'è anzi prego no non c'è anzi il problema quello che abbiamo sempre portato noi del movimento 5 stelle è il fatto che si sono man mano negli anni creati modi per fare poltrone quindi il problema vero è quello è quello il vecchio da scardinare è quello il vecchio da scardinare nel senso che si sono creati sempre più enti partecipati sia nei comuni che in regione con nomine politiche ci sono fatte sempre cioè si è andato incrostando un sistema per fare che cosa per creare poltrone e il riuscire cioè riuscire a togliere questo sistema a scardinare questo sistema è molto difficile perché ormai ci sono degli obblighi che si hanno verso persone che hanno avuto degli incarichi precedentemente che non possono essere presi e mandati a casa ed è per questo e questo il grosso problema del Rio nel senso che a fronte di un'abolizione credo che siano poco più di 1300 perché hanno detto 3000 ma in realtà non sono così tante esatto poi si creano comunque invece si aumenta il numero dei consiglieri che ci sono nei paesi e nelle cittadine piccole nei paesini e il numero degli assessori allora a questo punto io dico se dobbiamo sempre vedere le stesse persone che rigirano perché questo poi purtroppo è il grosso problema della politica mi permetto di dire al collega Gallera che il problema delle pensioni ma se effettivamente qualcosa poteva essere fatto perché non l'avete fatto voi quando eravate al governo? Su questo io devo dare la linea vi devo fermare le faccio rispondere Gallera rientro perché abbiamo la pubblicità e poi le do subito la parola Sì ma guarda io francamente trovo sbagliato e profondamente ingeneroso ritenere che chi si occupa nei piccoli comuni dell'amministrazione sia qualcuno che va alla ricerca di poltrone che quindi oggi siccome abbiamo riaumentato fortunatamente il numero dei consiglieri comunali e degli assessori abbiamo moltiplicato le poltrone prima di tutto parliamo di persone che portano a casa 100 euro all'anno lordi perché nei piccoli comuni prendono un gettone di 10-20 euro a sedute fanno circa 4 sedute all'anno e gli assessori porteranno a casa poche centinaia di euro al mese sono persone che lavorano per la loro comunità sono persone che fanno un lavoro straordinario peraltro difficilissimo con i cittadini che siccome li incontrano tutti i giorni da quando escono di casa quando tornano gli chiedono perché la buca è c'è la buca per strada l'erba non è tagliata e loro sono lì a dare delle risposte anzi ce ne vorrebbero di più quindi ben venga il fatto che si sia riampliato e si sia la possibilità a più persone a volte anche a più formazioni politiche di partecipare alla vita politica dei piccoli comuni perché parliamo dei comuni alla fine fino ai 5.000 abitanti o forse fino ai 15.000 leggermente ma insomma parliamo comunque di piccole comunità perché il comune di Milano che eravamo in 60 quello che facciamo in 60 possiamo fare in 48 ma nel piccolo comune dove hai 10 consiglieri comunali meglio averne 12 francamente quando hai 3 assessori che ripeto hanno comunque responsabilità e impegni nella loro comunità meglio averne qualcuno in più quindi questo non è un poltronificio nella maniera più assoluta anzi e poi scusate ma io non non capisco perché uno fa per qualche anno una professione si occupa di qualche cosa acquisisce un'esperienza la consigliera Macchi non ho il piacere di sapere cosa faceva prima oggi fa il consiglio regionale tra 5 anni avrà acquisito in questo un'esperienza no? è giusto che in qualche modo uno possa rimetterla a disposizione oppure alla fine fatta questa cosa se ne va via a maggior ragione col fatto che ti devi candidare a prendere i voti perché nessuno da questo punto di vista ti mette lì e ti offre quindi è veramente il modo più sbagliato di immaginare e di interpretare l'impegno amministrativo diverso al limite sono il proliferare delle società comunali cioè delle società partecipate dove a volte lì forse ce ne serve c'è stato un ampliamento e si potrebbero ridurne ma l'idea che tu svolgi una funzione acquisisci un'esperienza e va per chi fa il chirurgo questo va bene e chi più lo fa chiudo sulla provocazione perché non l'avete fatto voi a Roma guardi io penso che il centro-destra che ha questa filosofia ha fatto molto bene negli enti locali la regione Lombardia è una regione che anche il Corriere l'altro giorno faceva la mappa ha un numero di dipendenti per abitanti lo 0,3% costa niente quindi vuol dire che grava poco sulle spalle dei propri concittadini ho fatto il consiglio qua a Milano abbiamo privatizzato abbiamo fatto tante cose è vero a Roma non siamo riusciti a fare moltissimo perché a Roma il sistema è una palude perché ci sono enormi resistenti e neanche noi siamo riusciti a fare ce ne assumiamo la responsabilità evidentemente abbiamo anche perso le elezioni anche per questo per quello che oggi dico che la vera cosa è la riforma istituzionale cioè devi dare il potere al premier di fare le cose il mio esempio è la Thatcher che per 5 anni ha governato contro tutto e contro tutti ma alla fine ha portato i risultati qui invece tra questi sistemi per cui un deputato passa da parte all'altra non puoi cambiare i ministri resistenze di tutte le burocrazie più forti del mondo non riesci a fare le cose evidentemente sbagli anche sentiamo un attimo anche Davide e Maria Luisa poi la faccio assolutamente rispondere Davide buonasera Laura buonasera a lei buonasera prego ecco senta io stavo ascoltando stavo facendo una riflessione su quello che si stava dicendo soprattutto anche nell'intervento di quel signore di quel pensionato Giuseppe dice del contributo sociale esatto non riesco a capire come è possibile mi chiedo da cittadino avere fiducia di questa classe politica perché le parole dette dall'ospite lì adesso no non è possibile sono parole meritorie giuste ma il fatto è che è una parola il fatto è che quel signore lì ha ricevuto una lettera seconda cosa io ho sentito il Presidente della Repubblica dire basta tagli ma è benedetto signore ma non hanno ancora cominciato cioè dico ma stiamo scherzando cioè poi sento si sente o si apre il giornale si sente beh la prima cosa che si sentono è il politico indagato e quell'altro indagato mi chiedo anche a questo punto se è morale se è morale da parte di chi è deputato a svolgere un ruolo di rappresentanza pensare ah non è giusto fare di tutto un erbo un fascio ma è molto difficile signori miei certo si è molto messi alla prova abbiate pazienza io voglio dire solo un'altra cosa prego Davide poi devo chiudere la domanda è questa ma se cadono le province perfetto e le società e le compartecipate che fine fanno se cadono non lo so io rimango cioè sempre più perplesso cioè perché gli atti le parole sono una cosa poi arrivano le lettere a questo signore e quella se la deve tenere per sei anni come ci ha detto Giuseppe certo non conta niente allora una persona che prende 13.000 euro di pensione a questo punto devo dire 1.000 euro non fa niente ma quella persona lì anche se ne prende 3.000 a meno non cambia niente a questo signore qua probabilmente ma è il gesto che è sbagliato certo non sono 16.000 euro certo è inutile pensare che c'è fiducia di che cosa se devo avere fiducia di chi grazie Davide sentiamo Maria Luisa perché devo sentire ancora Macchi e poi vogliamo rispondervi certo buonasera Laura buonasera Maria Luisa grazie buonasera anche agli ospiti la regione Lombardia non ci costa niente ma costa ai cittadini lombardi se avete riempito di ticket a tutto spiano più di così non è che si possa adesso addirittura anche la guardia medica che di domenica se ti senti male e esce a visitarti devi dare i 25 euro e la ragione è stata amministrata bene caspita è un anno e mezzo che ogni giorno vediamo soldi un magna magna milioni che vanno milioni che vengono non lo so non lo so perché io dico abbiamo i super manager i manager in regione abbiamo come si chiama gli esperti che ogni nominato può portarsi appresso quanti soldi spendiamo in consulenze e come è amministrata la regione ma abbiamo cercato milioni e milioni poi di consulenze esterne grazie Luisa e se il riferimento che faceva Galleria era comunque anche alle altre regioni faceva un parametro perché poi dopo quello che ci tocca è nazionale che arriva da Roma insomma credo anche questo ragionamento prego Paola certo assolutamente il problema è proprio questo il fatto di andare a fare politica il fatto di fare il consigliere comunale io non metto in dubbio conosco delle persone che lavorano molto bene a livello comunale ma poi è il primo step per arrivare più su quello che diceva il consigliere Gallera loro lavorano poi si vedono sempre le stesse facce che girano cominciano a girare poi fanno la carriera politica e poi che cosa succede qual è il vero vantaggio della politica finora che si ha potere si ha il potere di decidere la persona che esce come politico lo sappiamo benissimo anche in regione Lombardia rientra come dirigente rientra in altre società partecipate rientra come consulente e poi va a finire che sono sempre le stesse persone che si sparticcono i soldi e quindi Davide dice come si fa a non dire di tutto l'erba un fascio ma certo come si fa a non dire di non tutta l'erba un fascio quando ogni giorno ogni giorno viene fuori uno scandalo e si vede che comunque sia c'è una corruzione nell'ambiente politico e noi siamo entrati lo diciamo sempre non siamo qui per caso proprio perché si è provato ad avere fiducia di tutti e purtroppo invece abbiamo visto che tutti sono insieme in questo sistema che si autosostiene si autosostiene girando miliardi noi non dobbiamo guardare quanto costa solo quanto costiamo noi quanto costa il consiglio quanto costa la giunta quanto ci costa di tutto il resto di opere inutili che si fanno a ragione la signora abbiamo i ticket più cari d'Italia e quante infrastrutture inutili si fanno e quanto e chi ci guadagna per quelle infrastrutture e quanti scandali ci sono sotto gli appalti che vengono dati a chi vengono dati gli appalti sempre alle stesse aziende che poi subappaltano a loro volta e non si riesce mai a controllare questa è la voce di Macchi Movimento 5 Stelle questo è doloroso anche come concetto e come pensiero perché può minare la democrazia intesa nella misura in cui la gente comincia a non fregargliene più niente però questo diventa un pericolo rispetto a non al famoso voto la democrazia è il sistema migliore per quanto il sistema più imperfetto perché decide il cittadino 25% del Movimento 5 Stelle perché l'ha deciso i cittadini governano Parma tra 5 anni i cittadini valuteranno se hanno governato bene li rivoltano se hanno governato male cioè lei dice la scelta e mandaccia a casa questo è il sistema il cittadino deve partecipare perché io ho iniziato quando avevo 16 anni al liceo perché vedevo che le cose non andavano e ho detto beh perché non provare a impegnarmi in prima persona invece solo di criticare e di lamentarmi e dagli ho iniziato dopodiché siccome i cittadini mi hanno continuato a dar fiducia ritengono che io sia più credibile rispetto ad altri ad affrontare i loro problemi e ogni volta mettendo scrivendo il mio nome e mettendo voglio dire dandomi il consenso personale quindi non paracadutato le preferenze famose questo penso che io penso sia un sistema ma questo è il tema allora questo è il sistema migliore e i cittadini giudicano giudicano se è giusto fare gli ospedali o no è sbagliato farli se ci fosse libertà di stampa allora Berlusconi ha vinto ha perso le elezioni quindi è la dimostrazione che questa roba qui non è neanche così vera sul discorso vincolo signori o qui ci sono le gare poi c'è anche una magistratura ma ci sono le gare le gare le fanno uno vince quando apri le buste per fare le roba adesso tutto questo se ci sono qualcuno che sbaglia perché io non posso certo assumere dire che tutto è sempre perfetto ma ci sono dei sistemi di verifica e di controllo non è che non possiamo purtroppo devo e però in Lombardia cioè vuol dire una battuta macchina perché devo purtroppo chiudere io mi auguro io mi auguro veramente che la magistratura faccia sempre ma sempre più chiarezza in tutta questa schifezza che c'è ma sempre fatto no non come ha sempre fatto non come ha sempre fatto perché è poco che sta cominciando a farlo è poco che sono uscite queste cose e noi siamo felici veramente felici che finalmente si comincia a scardinare quello che è un sistema che è evidente che non può stare più in piedi perché ha ridotto l'Italia come è ridotta i cittadini hanno ragione a essere arrabbiati perché hanno perfettamente ragione ma anche devo chiudere grazie grazie a Giulio Gallera Forza Italia Regione Lombardia Regione Lombardia anche per il Movimento 5 Stelle con Paola Macchi grazie di essere grazie a voi stati con me per questa prima ora prima di dare la linea alla regia per le notizie dall'Italia e dal mondo ricordiamo che stasera torna la festa rock stasera giovedì 27 all'Alcatraz di Milano è slanciamoci perché l'obiettivo e la voglia di stare insieme e di ascoltare musica è quello di aiutare la ricerca sulla SLA quindi per questo appunto slanciamoci la scopo dell'associazione che è omonima è proprio quello di raccogliere fondi e seguire l'attività del centro nemo dell'ospedale Niguarda di Milano un centro polivalente in cui persone con SLA o problemi gravi di distrofia possono trovare diversi professionisti nello stesso luogo senza considerando le difficoltà di motorietà doversi loro stessi spostare da ospedale a ospedale o da reparto a reparto quindi davvero un'eccellenza che è nata proprio grazie anche a tante associazioni come slanciamoci questa sera Alcatraz alle 21 allora la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo e poi di nuovo in diretta pane al pane in diretta su Radio Lombardia torna tra poco pane al pane pane al pane pane al pane